Buongiorno da Obiettivo News. Il 15 gennaio è San Mauro Abate. Il 15 gennaio, essendo il terzo lunedì di gennaio, è il Blue Monday, la giornata più triste dell'anno. Per risalire all'origine del Blue Monday bisogna tornare al 2005, quando la compagnia di viaggi inglese Sky Travel escogitò una genialata per invogliare i propri clienti per notare un viaggio. In pratica la Sky Travel cercorse che tendenzialmente le persone erano più predisposte a prenotare una vacanza quando il loro umore non era alle stelle. In effetti, quale miglior modo di combattere la tristezza se non con una vacanza? Decise quindi di convincere tutti a prenotarne una. Come hanno fatto? Beh, è qui che la cosa si fa incredibile. La Sky Travel aveva bisogno di sostenere questa sua tesi, rendendo credibile il tutto. Per farlo pubblicò una formula matematica rilasciata dallo psicologo dell'Università di Cardiff in un comunicato stampa, dimostrando che la tristezza aveva una base scientifica. Da quel momento il Blue Monday iniziò a prendere credito e spopolare letteralmente. Perché il colore blu? In lingua inglese il blu è il colore che viene associato a sensazioni di tristezza o comunque utilizzato per indicare qualcosa che non ci rende felici. Oggi è anche la giornata nazionale della salsiccia, è la giornata mondiale del gelato alla fragola e del succo fresco o spremuto di frutta. Tra i nati in questo giorno ricordiamo Martin Luther King 1929 e Enrico Mentana 1955. Tra i morti annoveriamo Massimo D'Azzeglio 1866.